Sì, volevo fare il torsiometro, però non so se faccio vedere il telefono. Sì, pronto, la MAPEI? Sì, salve, è sempre io. Ah, mi hai riconosciuto? No, volevo dire per il cemento che i muri sono due. Ah, aveva immaginato, sono due, sì. Vabbè, quello di Yamaha, va bene, sì, si sapeva. Sì, 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 tutto giallo, tutto giallo. Vabbè, il cemento, poi il giallo facciamo. Giallo, blu dall'altro, sì, con i numeri, sì. E chi lo fa? No, poi lo costruisce, ne ha di operai, sì. No, a servizio, uff, uff, pieno. Una gara a chi lo costruisce. Ho già delle offerte per... Sì, c'è gente che gli vuole costruire il muro, sì. Vuole costruire... Sì. E dei volontari, come nel giornalismo, guarda. Gli stessi. No, no, gli stessi. Fanno l'articolo e poi li costruiscono. Sì, sì. Però l'altro muro è per Ducati, sì. Sì, sì. Eh già. E mi sa che ci siamo, sì. E no, perché? No, anche lì gli operai non servono. E lo fanno fare a Pirro, sì. Che c'è Lorenzo che vuole tutto uno spatolato, da una parte. Dall'altra parte facciamo invece quelle ceramiche, sai, di Faenza, di Forlisi. Sì, sì. Rosso, poi ceramica, rosso, ceramica. Sì, con tutti gli spartani, sì, di piccoli, 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 sì. Va bene. Tutto apposto. No, non dall'Argentina. E se lo rubano in Argentina? Quelli no. Va bene? Va bene. Pirro lo fa, sì. E lo portiamo, lo portiamo. Non gareggio e facciamo fare il... No, non si offre. Ma è uno tranquillo. Sì, e se si rifiuta? Se si rifiuta gli tagliamo tutto il tesserino e documenti, il corpo alla forza. E quello si fa. E si fa. Ai poliziotti si può fare. Lo facciamo fare a una ragazza. Se si rifiuta gli tagliamo una carta di credo, il tesserino da poliziotto, sì. Va bene. Ciao, ciao. Ciao, mapeggio. Sì, pronto? Ehi, Carmelo. Eh, scusa, c'avevo la mapea sotto. Me ne occupo io. No, ti volevo chiedere, a proposito, per le eventuali strategie, la pioggia in Argentina, tutto apposto, strategie... A culo. Cioè, a fortuna, diciamo. Ah, ma che è successo con la... Perché li ho visti un po' impacciati con la commissione tecnica. Si muovevano così, non sapevano che fare. Ah, si erano bagnati i fili e non riuscivi a muovere capi rossi e un cibo. Che puoi capirò sì, anche più i fili sì. È stata bella l'idea di prendere la BMW X, quella è altissima, quindi fino a mezzo metro d'acqua la macchina lo guada. E però attenzione che per i piloti che non sono altissimi, poi non vedono guidare. Però l'idea di prendere la macchina alta l'avete fatto bene. Sì, perché con le... Eh, ma invece per le regole di drenaggio... Ah, non contano cazzo. Basta pagare, ok. Va bene, va bene, va bene. Va bene. Senti, ma è per Aragon, io ho dei tombini. Li facciamo anche lì, non piove mai. Siamo sicuri, sì. Va bene, a culo insomma. Strategia a culo. È anche più bello, ma non sono d'accordo. L'importante è alzare le macchine, perché tu poi fai il giro con la macchina ed è perfetto. Dopo entrano le moto e che cazzo... Che cazzo se ne è. Va bene. Ciao, ciao. Sono contento che piove, così non devo sciacquare il paradigma. Voi, Davide? Hai visto che bella gara a Zarco e Iannone? Eroi? Sì, perché si buttano meglio. Tu fai cinque giri in testa, poi cadi, sei un cazzone. Se li fanno loro, sono eroi. Ti devi buttare... Ti devi buttare meglio. Tutto qua. È una telefonata breve, perché c'è un altro... Sì. Esattamente, sì. Sì, 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 sì. No, in Inghilterra si corre con l'acqua. E lo dovresti sapere, sei andato apposta. Questa settimana non sei partito. Ah, vai col treno. Mi raccomando. No, no, non ti buttare lì. No, no, era per dire... Per dire ti devi buttare meglio. Non è che adesso ti butti. Nel caso, come Iannone, come Iannone, come Iannone, come Iannone, sì. Non è che è caduta di faccia, che le hanno attutite le labbra. Che c'entra le labbra? Le labbra? Ma sei capito. Le volte, no? Per dire era come Iannone, come Iannone. Ma poi è diverso. Ma tu poi sei di Roma, se cadi sei un cazzone, no? Lo dovresti sapere. Gli altri sono... Non ti buttare il tuo conto. Va bene. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Sì? Casameda? C'è Guido? Ah, non può rispondere. Stai ripassando i nomi dei vincitori del 2007-2008? Eh, lo so. Lo so. Eh, vabbè, non è una brutta figura. Adesso questa la licenziamo. Ma i decimi posti li sa. Ma perché anch'io, signora, anch'io, quando ho il telefonino pieno, che ho la memoria piena, le cose che non mi interessano, le foto dove non sono venuto bene, quelle le cancello. E poi dopo, se mi servono, le vado a cercare. Non ce le ho sempre tutte, sì. Sì. Eh, vabbè, ma... Quindi sta sul divano in piedi a ripetere. Ok. I decimi posti li sa, i noni posti li sa, i quarti posti li sa, che poi il quarto posto è come il primo, eh. Diciamo la verità. E vinse Stoner, quegli anni, sì. Stoner! Che esistone! No Kenny, che esistone! Quello biondo che vomitava, sì. No, non... No, esisteva Stoner, esisteva. Sono Ducati. Non l'ha mai, non gliel'ha mai nominato a casa. Ah, sì. Che c'era uno che vomitava, ma non aveva capito che era Stoner. Ok. E niente. Casey Stoner. No, adesso non corre più, non c'è problema, signore. No, no, no. No, non c'è problema, signore, non corre più. No, no, no. No, e si è ritirato in campagna. E perché si è stufato? Eh, lo so. Eh, lo so. Ah, sì. Stoner, signore, Stoner. Quello ha vinto, sì, tre volte. Ha vinto anche dei mondiali, due. Con la Honda. Mai sentito. A casa non parla di lavoro. Solo di piacere. Va bene, va bene. Va bene, me lo saluti. No, 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 non lo distrutti. No. Grazie, grazie.